Paris 24, Los Angeles 28 Il Comitato Olimpico Internazionale ha ufficializzato la designazione di Parigi e Los Angeles come città ospitanti rispettivamente dei giochi olimpici 2024 e 2028. Il voto a mano alzata e all'unanimità si è limitato a ufficializzare l'accordo che le due città avevano già trovato nelle scorse settimane per spartirsi le due edizioni. Per entrambe si tratta della terza designazione. A Parigi la torcia olimpica torna dopo esattamente un secolo. L'ultima volta risale infatti al 1924 e segue l'edizione del 1900. Los Angeles aveva invece già ospitato i giochi nel 1932 e nel 1984. Il voto si è svolto a Lima in Peru in occasione della 131esima sessione del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale. Grazie. Grazie.